Torna a ruggire il leone nero verde e lo fa con ferrigna tenacia affinché l'eco tonante della gioia possa riverberarsi fra le pareti di un ospedale dove stanno combattendo due amici incrollabili del bitonto, Ciccio e Pino. La vittoria, convincente sul Francavilla in Sinni, dopo due stop e un pari, è dedicata a loro. Mister Valeriano Loseto si mette nelle mani dello sterminato mestiere del trio arretrato Danilo Colella, Petta e Nocerino. In mezzo alla possa geometrica di Biasson viene coniugata alla corsa azzannante di Mariani alla placida regia di Capece, davanti Tedesco a duettare con rientrante palazzo. Il braccio destro di Rankov, Wenger Lazic, marziale, sceglie il rassicurante pagano al centro della difesa, Galdian Faktotun, playmaker, con l'arguto Navas, Nole, Dalcol, appungere davanti. Dopo le scornaglie di studio iniziali, i lapilli che decidono il match. Minuto 18, Tedesco riceve palla al limite dell'area di destra, in ebria mezza difesa Sinic e dal fondo serve Mariani, zampata ferale del Millennial e 1-0. Dieci minuti e imbucata di Colella per il taglio intelligente di Palazzo, abbattuto dall'uscita disperata di Cefariello, che, nove Bitontino, spiazza dal dischetto e fa cifraton da centenari anche lui di gol in carriera. Al trentacinquesimo gli ospiti accorciano con una parabola malefica di Galdian dai 30 metri su piazzato, cuoio all'incrocio e 2 a 1. Al trentaseiesimo botta fatata di Biasone e volo di Cefariello, che mette la sfera in corner. Atterramento sospetto in area neroverde al trentanovesimo, ma per il signor Muccignato si prosegue. A quattro dalla pausa ancora Galdian mette nel mirino l'altro incrocio, ma trova i guantoni di Zinfollino. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa continuano a serrare nella loro metà campo gli avversari e al terzo angolo da sinistra, piattone di Capece e riflesso fulminio di Cefariello. A tre dalla mezza scaltro cross di Turo al volo, fallo di mano in area lucana, altro penalty. Dagli 11 metri il tiro di Palazzo muore sul palo alla sinistra del goalkeeper Rossoblu, che poi afferra il pallone. Fino al termine del match, vani saranno gli assalti dei Lucani, terranno botta con inscalfibile saldezza gli uomini del tecnico barese e, con vivo entusiasmo, già volgono lo sguardo al cimento di giovedì col portice.